Ed eccoci nella seconda parte di Respubblica Sicilia Chiama Europa, continuiamo a conoscere gli aspiranti sindaco per EDI, ci abbiamo salutato appena Silvana Catarano, sono in studio con il quarto in ordine di arrivo qua nei nostri studi dei candidati a sindaco, Piero Spina, ben ritrovato. Buonasera a tutti, grazie direttore. Come per tutti gli altri, raccontiamolo Piero Spina brevemente. Piero Spina è un 48enne, un padre di famiglia, ho due figli, Alessandro di 10 anni e Mauro di 5 anni, sono un avvocato, anche se da ormai 10 anni faccio il funzionario presso l'ASP e mi occupo praticamente di provveditorato, quindi gare d'appalto, diritto amministrativo. Sono un ragazzo che gira sempre nella città, vivo il territorio, molto passionale e questo lo dimostrano anche le mie passioni, quelle legate allo sport, al territorio, che ha molti amici e grazie a Dio in questa campagna elettorale sto vedendo proprio l'affetto, la vicinanza e la partecipazione di tanti amici che mi stanno mostrando proprio una spinta e una tensione davvero positiva. Quindi questo è Piero Spina, è un ragazzo che molti conoscono perché vivo il territorio da sempre, fortemente appassionato e innamorato della propria città. Io a volte lo dico, sono un po' arrabbiato con la mia generazione perché a volte abbiamo un concetto della nostra città che è sbagliato. Io dico noi dobbiamo apprezzarla di più, dobbiamo valorizzarla, dobbiamo fare in modo che questa nostra città che poi in fondo davvero è la nostra seconda casa, dobbiamo apprezzarla di più e questo significerebbe anche valorizzarla, significerebbe anche pubblicizzarla all'esterno in maniera migliore. E poi sono un uomo del popolo, una persona che vuole stare insieme a tutti. Io per esempio sono un uomo di curva, io amo il calcio, amo il trapani calcio e da sempre partecipo e faccio parte della curva di questa città. Questo lo dico proprio per testimoniare la mia passione, il mio modo di affrontare la vita ma anche lo sport della città. Qual è stata la scintilla che ti ha fatto decidere di volerti mettere a disposizione? Direttore, io faccio politica da sempre, la politica la vivo con passione e con senso di responsabilità, più che altro non è una scintilla. Io ho detto che noi abbiamo costruito da anni un percorso, abbiamo continuamente, quasi settimanalmente parlato di politica e dei temi che riguardano il nostro territorio, le nostre città, in particolar modo erice. Ed è un senso di responsabilità, dicevo prima, che ci deve portare un po' tutti a riflettere su quelle che sono le nostre potenzialità e su quello che il nostro territorio può avere. Infatti nelle parole che indicano quello che è il percorso della mia campagna elettorale, noi abbiamo utilizzato alcune terminologie che danno proprio il segno di questa campagna elettorale, noi parliamo di visione, noi con responsabilità pensiamo di avere un progetto che abbia una visione futura, che pensi ad un'erice diversa, un'erice che sia diversa in termini anche di entusiasmo, di vicinanza delle amministrazioni nei confronti delle attività produttive, ma nei confronti soprattutto delle persone, dei cittadini che hanno bisogno di avere un contatto diretto con le amministrazioni, con gli amministratori e hanno bisogno di avere delle risposte, però con senso di responsabilità. Quando io parlo di responsabilità dico anche da persone responsabili, noi non vogliamo raccontare nulla di irrealizzabile, non vogliamo parlare dei sogni, ma dobbiamo parlare intanto di avere una città normale, cioè una città che garantisca in primis i servizi di base, i servizi essenziali, quella che è l'ordinaria di amministrazione. Perché se gli altri, evidentemente se tu poni l'accento su questa problematica, ritieni che non ci siamo riusciti appena, perché se gli altri non ci siamo riusciti a garantire una città normale dovrebbe riuscirci Piero Spina? Ma dovrebbe riuscirci Piero Spina? Allora Piero Spina garantisce intanto il massimo dell'impegno, il massimo della passione e anche della qualità. Io dico che per sviluppare un progetto che sia ambizioso c'è bisogno di una regina, una regia, una cabina di regia fatta da professionisti, da persone che abbiano esperienza, ma che abbiano esperienza maturata sul campo, ma anche quella professionalità che devono mettere in campo. Io sono convinto di una cosa e in questi giorni questa mia convinzione è cresciuta sempre di più. Noi nel nostro territorio abbiamo delle grandi professionalità, io ho incontrato architetti, ingegneri, anche persone che si occupano di comunicazione e vedo che ci sono delle idee importantissime, delle idee ambiziose, delle idee innovative che in questo territorio non sono state mai messe in campo. Sulla base di questa cabina di regia io sono convinto che noi possiamo dare una spallata a una situazione ormai che è andata negli ultimi anni soprattutto a decadere e possiamo veramente fare ritornare Erice ai fasti di un tempo, ma anzi di più possiamo proiettarla in una visione futura con fatti concreti. Dicevo prima senza raccontare libri dei sogni, perché noi non abbiamo bisogno di sogni, ma dobbiamo raccontare praticamente delle esperienze che hanno fatto in altre realtà e dobbiamo essere bravi a mutuare le esperienze virtuose che altri hanno fatto, guardiamo alcune realtà nostre, io faccio l'esempio sempre di San Vitolo Capo, San Vitolo Capo per esempio la sua manifestazione vent'anni fa per uno che ha villeggiato e villeggia San Vitolo Capo da anni, io ricordo quella che fu il Cuscus Festival anni e anni or sono, in quegli anni nacque in maniera come una festa assolutamente di paese, poi loro decisero di fare una cosa, di affidarsi a delle professionalità, dei professionisti che hanno messo quella manifestazione nei canali internazionali, ebbene oggi sulla base di quella manifestazione San Vitolo Capo, il Cuscus Festival è diventato una manifestazione internazionale e dico io tutto questo perché non si può fare nel nostro territorio, perché non si può fare a Derice? A Derice determinate manifestazioni e determinati eventi che davano una visibilità a tutto il territorio, a questo brand che è conosciuto già a livello internazionale, non si fanno più, pensiamo alla Venere di Erice, pensiamo a un turismo mariano, io in questi giorni caro direttore incontro gli operatori di settore, io penso che la caratteristica principale che l'amministrazione prossima di Erice debba avere è quella di confrontarsi continuamente con le associazioni di categoria, io lo sto facendo in questi giorni di campagna elettorale, guardate che tanti sono gli spunti che mi stanno arrivando, perché dico semplicemente una cosa, noi non abbiamo la soluzione a tutto, ma sicuramente per iniziare ad avere un'idea delle soluzioni non possiamo che confrontarci con chi vive i problemi ogni giorno, parlo dei commercianti, parlo degli artigiani, parlo degli operatori turistici, guardi io ho incontrato gli operatori turistici e mi hanno segnalato alcune necessità che loro vivono quotidianamente, quindi se noi non ci confrontiamo con loro e con le associazioni tutte, anche con gli agricoltori per capire cosa necessitano, per dare non solo una sensazione, ma per dimostrare loro di avere un'amministrazione vicina che faccia da cuscinetto rispetto a quelle che sono le loro problematiche e tenti insieme a loro, ripeto, insieme a loro di risolvere i problemi di questo territorio. Io sono convinto, e lo dico veramente con passione, ma con l'estrema convinzione che veramente noi possiamo andare avanti, che questo territorio può davvero crescere, può davvero migliorare e può porsi ribaltando quelle famose graduatorie che ci vedono sempre all'ultimo posto. Io ho detto in questa campagna elettorale che noi dobbiamo essere ambiziosi, io per carattere sono molto ambizioso e penso che anche i cittadini debbano esserlo. Dobbiamo pensare che Erice possa essere non soltanto nei primi posti della nostra regione, ma possa diventare un'eccellenza non solo nel meridione d'Italia, ma dell'Italia intera. Non l'estrema convinzione, sono convinto che abbiamo nel nostro territorio, oltre alla bellezza naturale che nessuno ci può togliere, delle potenzialità inespresse che dobbiamo fare in modo di sfogare. Spina, 5 liste e 5 assessori designati, spieghiamole. 5 assessori designati, abbiamo insieme fatto questa scelta, fatto questa scelta per un motivo soltanto, perché io sono convinto che noi puntiamo a vincere intanto al primo turno, quindi diamo, ho voluto dare questo segnale, io sono convinto che noi abbiamo una delle contenitori di una certa importanza, oltre che di una certa qualità e abbiamo indicato una serie di professionisti che hanno determinate specifiche competenze. C'è chi è che in questi anni è stata opposizione al Consiglio Comunale, chi meglio della Simona Mannina può conoscere quelli che sono i problemi legati al Comune di Erice, c'è chi è che, come la dottoressa Borriello, è un medico, un ginecologo, una famiglia di medici del nostro territorio, molto apprezzati, che può darci sotto l'aspetto della sanità tutta una serie di indicazioni. Abbiamo chi dall'esterno in questi anni è stato un vungolo per le amministrazioni, Salvatore Fileccia, Tore Fileccia oltre a essere un imprenditore, ma prima di tutto è un amico, perché la squadra intanto, questo lo affermo con forza, perché spero che sia la forza di questo progetto politico, siamo un gruppo di persone che ragionano intanto in maniera coesa e come amici e poi tentano di proporre alla cittadinanza tutta la loro offerta politica e sperano essere un'offerta politica di qualità e ti garantisco che all'interno di questo programma elettorale che ho in mano, che è la sintesi di tutte quelle idee che sono, che abbiamo avuto e che abbiamo discusso. Io per anni all'interno del mio movimento in Cives abbiamo fatto questo lavoro che è un lavoro che devo dire ha pagato, perché se determinate iniziative che abbiamo portato avanti, Nicola con orgoglio dico, sono state copiate anche dalle amministrazioni, un risultato l'abbiamo avuto. Abbiamo fatto poco, un risultato l'abbiamo avuto, perché dimentico, voglio indicare anche Vincenzo Terezza Grossa, il dottore commercialista, ma anche l'avvocato Zaccarini che avete avuto l'opportunità di conoscere nelle varie attività che lui ha svolto dal punto di vista pubblico, ma anche per la sua attività privata e un noto e stimato professionista del territorio. Stavo facendo una domanda però me la sono dimenticata, entrando nel merito. Stavo dicendo, andiamo appunto a parlare del programma, no? Mi sono ricordato la domanda. Cinque liste, Cives, il movimento che hai cofondato insieme ad altri amici e che ormai conosciamo da tempo, è già riuscito a proporre, a determinare, consigliere comunale appunto in quel di erice. Se ti posso interrompere, su Cives voglio dire una cosa, la cosa bella di questo movimento che è nato dieci anni fa e non ha mai calato la tensione o l'attenzione. Ed è bello perché spesso si vede sotto il periodo dell'elezione un fiorire di movimenti che nascono e che durano davvero poco. Invece orgogliosamente ti dico che Cives è un contenitore all'interno del quale ci sono professionalità, ma cittadini che parlano di politica e si interessano alla politica e sviluppano questo senso civico che molto spesso manca. Scusami l'interruzione. No, 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 era una piccola sottolineatura che ci tenero a fare. Per la domanda che stavo per porti. Proprio con Cives non solo un assessore, sei stato più determinato appunto ad erice, consigliere comunale, ma attraverso Cives hai avuto modo di essere designato assessore pure a Trapani, ti sei occupato di finanze, del bilancio. Quindi sulla base di quell'esperienza, che fu abbastanza intensa pure se durò un anno e qualche cosa, non ti è passata la voglia, anzi, hai capito dall'interno che si vuole. Guarda, quella è stata una delle esperienze, anzi, dico che è stata l'esperienza dal punto di vista politico più bella della mia vita. Gli amici miei lo sanno quanta passione e quanto impegno abbiamo messo per portare avanti quell'esperienza e devo dire che oltre all'impegno la caparbietà ci ha portato anche ad avere dei risultati importanti. Figurati che mi si diceva prima che entrassi che non c'erano dei soldi, non c'erano dei fondi. Mi dicono anche in tanti gli amici miei che io spesso sono molto discreto, non racconto quelli che sono i risultati dell'esperienza, oggi lo voglio dire perché lo dico senza timore di smentita e con orgoglio. In quel caso noi troviamo oltre 7 milioni di euro con una frase che con un tecnicismo che molti non capiranno si chiama devoluzione dei mutui, ma la partenza era che non avevamo la possibilità di fare nulla perché nel bilancio non c'erano soldi. Ebbene quella fu l'occasione che ci portò a fare diventare il comune di Trapani il primo comune a presentare il bilancio di previsione quando prima di noi il bilancio veniva presentato il bilancio di previsione il 30 di dicembre, era un consuntivo. Anche quello fu un motivo con orgoglio. In quel periodo ricordo a tutti noi riuscimmo a fare l'inventario dei beni mobili, l'inventario dei beni mobili, tante cose che per anni non erano state fatte. In un lasso di tempo abbastanza breve, dico io, con l'impegno, con lo studio evidentemente si riuscirono a fare una serie di cose. Questo riproposto in un territorio meraviglioso come Erice, che ha bisogno di essere rilanciato e dal punto di vista dell'offerta formativa universitaria e dal punto di vista culturale. Abbiamo bisogno che Erice ritorni dal punto di vista culturale ad avere un centro Ettore Majorana che abbia l'importanza, era un centro nevaralgico dal punto di vista mondiale. Non scordiamoci per esempio che al centro Ettore Majorana fu istituito a fine degli anni Ottanta un premio. Sì, è passato, però non è che diventa da sindaco cosa deve fare il centro Ettore Majorana, come può un sindaco riconvincere o ritornare a far diventare quello che era prima un tempo Ettore Majorana. Direttore, una delle prime cose che io dico, l'amministrazione che propongo insieme agli assessori deve essere un'amministrazione che riesce a dialogare con le istituzioni, con tutte le istituzioni. Questo cosa significa? In questo periodo di campagna elettorale ho avuto la fortuna già di incontrare tre assessori di questo governo regionale. C'è bisogno che un'amministrazione di Erice, per portare avanti le ragioni del proprio territorio, dialoghi con tutte le istituzioni, non soltanto quelle pubbliche, quindi gli assessori regionali, ma anche con i ministeri. Io ho scoperto sulla mia pelle, caro direttore, che ci sono una miriade di progetti, anche a livello ministeriale, che rimangono praticamente non utilizzati da parte delle amministrazioni locali, perché le amministrazioni locali non lo sanno. L'ho scoperto sulla mia pelle, perché nell'esperienza di cui ti parlavo prima ho potuto constatare, andando direttamente a Roma, che al Ministero dell'Ambiente, per esempio, c'erano un sacco di fondi che non venivano utilizzati. Il vero problema delle amministrazioni è che mancano i progetti. Se noi non facciamo i progetti e non individuiamo quelle che sono le istituzioni che hanno i fondi, che sono messi a disposizione e che spesso si perdono, non saremmo in grado mai di portare avanti delle nuove iniziative. Ti parlavo del centro Ettore Maiorana, io mi sono confrontato con gli assessori regionali perché è normale che un'amministrazione abbia questi contatti continui. Quindi tu parlavi di Pierospina, Pierospina sarà anche un sindaco che continuamente farà la spola con Palermo, che continuamente si relazionerà con la politica romana, si confronterà con i ministeri. Perché in una di queste esperienze, quando ero assessore al comune di Trapani, un funzionario di Roma mi disse una frase che mi è rimasta impressa su un progetto che era in scadenza e c'erano dei milioni a disposizione per le amministrazioni virtuose. Parlo del progetto dei corpi illuminanti, era un progetto che riguardava le città virtuose italiane che avevano investito sull'illuminazione pubblica con corpi illuminanti di nuova generazione. Ebbene, quando mi visi in contatto con il funzionario mi disse una frase che mi rimane impressa e sarà una sorta di guida nel caso dovessi avere la fortuna di diventare il sindaco della cittadiera. Mi disse che ci sono 50 istanze di città italiane qui al Ministero dell'Ambiente. Ebbene, da Trapani è arrivata soltanto una PEC, ma qui è un continuo via vai di amministratori, di sindaci, di assessori e di vicesindaci. Secondo lei il comune di Trapani in che posizione è? Ebbene, caro direttore, il comune di Trapani era cinquantesimo. Non possiamo permetterci di lasciare questi fondi a Roma o a Palermo e non portarli qui da noi. Non possiamo permetterci di non investire. Proprio per questo nel nostro programma elettorale abbiamo inserito uno sportello, uno sportello che si chiama Sportello Europa, ma è anche Sportello Ministeriale. Uno sportello che in primo luogo non farà altro che supportare l'Ufficio Tecnico Comunale nell'attività progettuale, sia di valutazione di questi progetti europei, ma anche ministeriali, ma anche nello sviluppo progettuale. Lo sai che era uno dei punti della scorsa campagna elettorale quasi di tutti gli aspiranti sindaco? Eh sì, però non deve essere soltanto uno dei punti che rimane sulla carta. Deve essere uno dei punti e per questo una delle parole della mia campagna è responsabilità, che responsabilmente l'amministratore che verrà, che si è presentato agli occhi dei cittadini con un programma elettorale depositato, deve fare in modo di portare... Va bene, va bene, va bene. Tu hai detto Savrò, la fortuna di diventare sindaco, ma è fortuna tua o fortuna per i cittadini? Ma guarda, io non lo so se... io intendo la politica ho detto come atto di responsabilità anche perché chi come me, ma anche come lei, ha dei figli piccoli, ci diamo del tu, Nicola, ci conosciamo, e chi come noi ha dei figli piccoli e non può che pensare di dover lasciare loro una eredità migliore di quella che abbiamo ricevuto. Perché sono davvero convinto, e lo dico veramente perché lo penso, non perché lo devo dire in quanto in campagna elettorale, l'ho detto sempre anche nei famosi incontri che da anni e anni facciamo, sono convinto veramente che noi possiamo spingere anche gli imprenditori locali ad investire nel nostro territorio, spingere gli stessi a creare opportunità di lavoro, questo significa creare il reddito, dare posti di lavoro ai cittadini. Perché ci dobbiamo accollare supinamente che i nostri figli, le nostre intelligenze vadano ad arricchire gli altri territori, perché dobbiamo pensare sempre, per esempio, che i ragazzi, i diciottenni che si affacciano al mondo dell'università debbano andare a Camerino, piuttosto che Orbinio, non possiamo pensare di portare, in collaborazione evidentemente con le università, con l'Università di Palermo, con il Consorzio Universitario, di portare un'offerta formativa qua, di fare diventare erice centro universitario e farla diventare un Erasmus, portare i giovani studenti europei nel nostro territorio. Abbiamo i locali, abbiamo le intelligenze, abbiamo le idee e allora queste idee un amministratore che si propone deve dare le gambe, deve fare in modo attraverso la politica di raggiungere gli obiettivi e dico io attraverso anche il coinvolgimento degli imprenditori. Guarda, un'altra delle mie esperienze con il mio movimento mi porta a dire questo, a volte alcune cose la pubblica amministrazione da sola non le può fare, ma se riusciamo veramente a coinvolgere gli imprenditori privati, i commercianti, le associazioni di categoria, la pubblica amministrazione insieme a loro a volte è in grado di fare cose che inizialmente sembrano impossibili da realizzare. Tu parlavi prima di liste, io ho parlato solo di Cives, ma dobbiamo ricordare le liste del Movimento Via, non posso non dimenticare il lavoro che sta facendo Angelo Rocca e il senatore Papania in questo percorso praticamente di crescita e di progetto politico. Abbiamo la lista Via, ho detto, abbiamo la lista di MNA e di Generazione Futura, devo ricordare anche che insieme a me in questa battaglia c'è il Movimento Cittadini per Erice e poi ci sono le altre liste, c'è la lista ericina con fior di professionisti che si stanno impegnando, all'Avvocato Scontrino, al dottore commercialista Salvatore Montemario, insomma tutta una serie, un insieme di persone, personalità e professionisti e cittadini del territorio che stanno dando idee per portare avanti questo progetto e per traghettarle ai cittadini di Erice parlando di un progetto che ha una visione, che ha un orizzonte di crescita. Ok, andiamo per pillole. Lungomare, Erice a Valle, Frazioni, Erice Centro Storico. Allora, Lungomare, non possiamo, l'abbiamo inserito nel nostro programma elettorale, io immagino il Lungomare di Erice che sia chiuso intanto al traffico veicolare il fine settimana perché deve diventare insieme a quello che può essere il futuro Campobianco, una sorta di Central Park, deve essere un centro di spettacoli turistici, di spettacoli teatrali, cinematografici, di eventi sportivi, dobbiamo essere in grado di attrarre degli eventi sportivi nazionali e internazionali nel nostro territorio, la montagna, il mare. Pensiamo ad un sistema di collegamento, per esempio noi abbiamo inserito nel nostro programma un sistema di collegamento che parli del lato mare ma parli anche della vetta, dei castelli e che sia collegato con il porto di Trapani. Capita in tutte le città turistiche che ci siano il turista arrivi facendo un unico biglietto che lo collega dal porto della città di Trapani alla funivia, dalla funivia ai castelli del nostro meraviglioso borgo medievale fino ad arrivare a mare. Ti rifaccio la domanda, lo sai che anche questo è stato messo più volte nei programmi ma poi non è stato messo in pratica e perché? Non tutte le offerte politiche sono uguali, non tutte le offerte politiche sono uguali, io dico che la differenza sta anche nel riuscire a diventare, a far diventare concrete determinate cose, determinati punti programmatici che io considero essenziali. Nelle nostre piccole esperienze l'abbiamo dimostrato, lo dimostreremo anche in questo caso. Altra cosa, tu mi parlavi di punti programmatici evidentemente in pillole, io ho inserito la riqualificazione di alcune piazze che sono fondamentali nelle nostre frazioni, il contatto diretto con gli agricoltori e le zone di Ballata e di Napola ai quali bisogna dare una sorta di cuscinetto e avviarli anche a forme di turismo che sono legate al mondo dell'agricoltura, alla valorizzazione dei nostri prodotti locali. Una delle cose che mi entusiasma di più dal punto di vista programmatico è quella di creare in Ericevetta una scuola delle arti, io vorrei che i nostri giovani tornassero nuovamente alle arti di un tempo, alle arti artigiane che noi sviluppiamo nella nostra Erice e non solo, pensiamo ai tessuti, alle ceramiche, pensiamo anche all'arte, alle varie forme di arte. Ovviamente in ottica rivisitata moderna. Quanto sarebbe bello vedere ad Erice una scuola dei mestieri che riporta i nostri giovani a queste tradizioni, a queste tradizioni locali, all'arte anche del corallo. Con stampa in 3D, mi permetto di dire, con stampa in 3D ormai siamo oltre. Assolutamente, io parlavo per esempio di progetti, ricordiamoci anche che c'è per esempio in questo momento il PNRR, ricordiamoci anche, vorrei sapere l'amministrazione in tal senso quali progetti ha sviluppato, perché ci sono dei termini entro i quali presentare i progetti, perché da lì ci sono dei fondi che neanche noi possiamo immaginare. Guardavo per esempio studiando questo PNRR che ci sono dei fondi per la valorizzazione dei terreni rurali e c'erano a disposizione, ci sono 70 milioni, vedevo che erano stati presentati i progetti per cifre esigue, bisogna saperle queste cose, l'amministrazione ha l'obbligo di presentare delle progettualità, se no anche in quel caso questi fondi rimarranno inutilizzati. Da più persone, da più parti, soprattutto da parte degli altri candidati a sindaco, mi hanno posto l'accento su una dichiarazione che hai fatto tu domenica scorsa durante la presentazione della tua candidatura, diceva ma che significa sindaco della notte? Ma guarda è un altro degli altri punti programmatici, io ricordo nella mia giovinezza un'erice che è molto viva sotto l'aspetto anche delle manifestazioni, delle attività ludiche, come si chiamano, mi ricordo che c'erano discoteche, venivano organizzate gli eventi, adesso tutto questo non c'è più, oltre che si deve pensare ad un progetto che destagionalizzi tutti questi eventi e queste manifestazioni che porti nei giovani, il sindaco della notte è una figura che noi già abbiamo individuato, più in là la ufficializzeremo, attraverso la quale organizzare tutta una serie di eventi non soltanto in erice centro storico ma anche a valle, un responsabile che avrà il compito di pensare a una erice piena di eventi, di attività, di spettacoli teatrali, cinematografici e non solo, anche legati al mondo del divertimento delle discoteche, ma con un'idea, quello di dover programmare, programmare in tempo perché non si può arrivare alle stagioni presentando un programma all'ultimo minuto, le attività vanno programmate per tempo in base ad una cabina di regia, come ho detto, che deve anche individuare tutto questo genere di attività che portano… San Giuliano è un quartiere difficile? Guarda, San Giuliano, oggi è proprio la giornata che io andò nuovamente in quel territorio che è come gli altri territori, San Giuliano non è particolare rispetto agli altri territori, è un territorio che l'amministrazione ha il dovere di valorizzare dal punto di vista della viabilità, dal punto di vista sociale, il centro sociale deve ritornare ad essere, ad avere quelle attività che si sviluppavano un tempo, oggi sarà proprio l'occasione, questo pomeriggio io mi regherò a San Giuliano, voglio dire, scusatemi, proprio per parlare con i cittadini di San Giuliano, alcune delle problematiche loro già le abbiamo valutate, ripeto, alcune sono legate alla viabilità, un'altra che è quella che io ritengo sia il nostro biglietto da visita e quella legata alla pulizia, noi dobbiamo pensare che la nostra città, i nostri territori sono un biglietto da visita anche per i turisti che arrivano. San Giuliano è contigua alla nostra zona del mare, San Giuliano deve essere più bella, più pulita e più organizzata e piena di servizi. Se pensiamo al sistema dei trasporti, io penso anche, l'abbiamo scritto nel programma elettorale, a poco a poco ad una dismissione del nostro parco macchie per avere veicoli green, minibus per esempio elettrici che sviluppino un collegamento tra le varie frazioni, ho parlato di San Giuliano ma non dimentichiamoci di Napola, non dimentichiamoci di Ballata, sono stata ballata e ho visto che la situazione della viabilità delle strade è veramente da ripristinare e pensiamo al problema dell'acqua, un problema sentito è uno di quei servizi essenziali. Anche lì ritorno a ciò che ho detto all'inizio e chiudo. Se non abbiamo i necessari collegamenti con le istituzioni che contano mai risolveremo il problema dell'acqua. Il problema dell'acqua va fatta una mappatura della nostra rete idrica, una mappatura che ci dica esattamente dove passa la rete idrica e quali sono i punti per sviluppare e programmare gli interventi di ordinaria amministrazione su tutta questa rete idrica. E questa mappatura che dobbiamo individuare confrontandoci continuamente con Palermo e con le istituzioni che contano sarà quella mappatura che ci consentirà di intervenire in maniera tempestiva e veloce nei momenti straordinari, di maggiore necessità. Grazie, dobbiamo chiudere. Abbiamo terminato il minutaggio a nostra disposizione ma ci sarà modo e tempo per approfondire, certamente in televisione ma anche in altri luoghi della comunicazione, virtuali o meno, il programma anche del candidato sindaco Pererice, Piero Spine. Io ti ringrazio Nicola, ringrazio tutti gli ascoltatori e l'invito a venire al comitato elettorale sito in via Cosenza 147 perché quel comitato elettorale l'ho chiamato centro d'ascolto, è lì che si devono creare le iniziative, è lì che devono nascere le idee. Grazie, questa è stata Res Pubblica Sicilia Chiama Europa, partecipi al confronto con i sindaci che stiamo organizzando per la settimana prossima. Assolutamente sì, il confronto è crescita e devo dire che nelle occasioni precedenti è stato bello perché ci si è confrontati, la gente non vuole vedere conflitti ma vuole vedere confronti perché dai confronti nascono le idee e si possono migliorare i territori. Grazie, grazie a voi per averci seguiti.